Quanta che presenta un brano di Eros Ramazzotti, il microfono è quello, prego Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio evitare così una storia importante non volevo così ritrovarmi già grande Quanta gente ho incontrato io quante storie, quante compagni ma ora voglio di più una storia importante quello che sei tu forse sei tu fermati un istante parla chiaro metti gli occhi dentro ai miei come ti vorrei non riesco a liberarmi questa vita mi disturba sai come ti vorrei quanto ti vorrei apro le mie mani per riceverti ma il pensiero mi porta via mentre tu le chiudi per difenderti la paura la paura anche un po' la mia forse noi dobbiamo ancora a crescere crescere forse un alibi una bugia se ti cerco ti nascondi poi ritorni fermati fermati un istante parla chiaro metti gli occhi dentro ai miei dentro come ti vorrei non riesco a liberarmi questa vita mi disturba sai come ti vorrei quanto ti vorrei quanto ti vorrei come ti vorrei come ti vorrei quanto ti vorrei ciao saremo come ti vorrei quanto ti vorrei maestro Luca paolo bianco grazie 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 allora vi ricordiamo che siamo in diretta streaming con la stampa web quindi www.lastampa.it poi a sinistra cliccare